Ma mi ricordo che l'ho salvato per farvelo vedere Ok, ciao ragazzi, sono Flyer Billy e questa è una calda giornata, fresca giornata, felpa Felpe, di luglio, è il senatore Razzi Ma chi cazzo è? Ma dai, non mi spieghi così Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del mondo Porco Dio, ma io devo mettere sta roba nel mio video, figlio E comunque, Razzi, è proprio un coglione Non scherzo, cioè mi disso Volevo dire che siamo qui oggi per provare questa vodka rumena, Scandic Crystal Clear Premium Vodka Fatta usando la miglior tecnologia del mondo E risalente al 2008 però No, è vero, era al 9.008 Cioè, devo ritenere un attimo questa roba Che dobbiamo fare la prova Abbiamo adoperato anche del succo Andremo ad adoperare del succo Per contrastare la possibile acidità Che skill, raga Alla salute Innocenti Decisamente migliore rispetto alle marche tradizionali tipo Keglevich o Merdavich Molto leggera Non mi è servito il succo Bella per Scandic Vodka Scandinava Grazie a tutti